Riunione affollata incandescente al comune di Pescara per discutere il caso acqua inquinata del mare. Le commissioni ambiente e vigilanza riunite assieme per l'occasione hanno ascoltato tra gli altri il parere dei tecnici comunali dell'ARTA oltre che del primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Pescara Giustino Parruti. Quest'ultimo ha rassicurato tutti rispetto all'allarme. Per Parruti non c'è stato un significativo aumento dei casi arrivati all'ospedale civile adriatico. Non c'è stato nessun incremento anzi paradossalmente nel nostro reparto c'è stata una leggera diminuzione dell'attività rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso il che non vuol dire che i dermatologi non abbiano visto qualche lesione irritativa in più che ci può stare benissimo col fatto che noi abbiamo oramai 20 giorni 30 giorni consecutivi di altissima temperatura. Pescara vive dal giorno di Pasqua di quest'anno uno stato di emergenza perenne per quanto riguarda la condotta fognante di Porta Nuova. Lo smottamento di una parte di assattrezzato e la conseguente rottura della condotta principale adesso aggrappata ha costretto l'AC a ricorrere ad una vecchia condotta che da allora per 11 volte si è rotta in vari punti causando problemi. Tra queste rotture c'è anche quella incriminata del 28 luglio scorso che ha causato lo sforamento dei limiti di legge nel tratto di mare antistante via Balilla dove era stata appena ripristinata la balneabilità. Questi i dati dell'arta. Il tratto di mare prospiciente via Balilla ha una estrema variabilità perché questa variabilità dipende dalle condizioni meteorologiche quindi dalle correnti a seconda per esempio dove l'acqua del fiume va trascinata. Quando le correnti vanno verso sud via Balilla che a nord è completamente pulita se invece ci sono maggiori ristagni o venti o correnti sfavorevoli via Balilla da risultati ha dato più volte risultati non positivi. Comunque al momento possiamo dire che i prelievi effettuati dal primo di agosto in poi danno risultati entro i limiti. Ci sono stati gli ultimi due prelievi che hanno dato risultati dentro i limiti quindi tecnicamente quel punto oggi non è in divieto di balneazione. Va chiarito comunque che il compito dell'arta è quello di effettuare analisi e di fornire risultati alle autorità sanitarie. Noi quindi appena avuto il risultato delle analisi che si badi arriva sempre 48 ore dopo il momento del prelievo perché queste acque vanno incubate. Naturalmente scoppiata la bagarre politica le opposizioni di centrodestra e il Movimento 5 Stelle hanno rimproverato al sindaco Marco Alessandrini lentezza decisionale nel vietare la balneabilità e scarsa comunicazione ai cittadini su quanto accaduto. Da par suo il sindaco ha risposto bollando come inutile allarmismo la polemica dell'opposizione e dati alla mano ha ricostruito i passi dell'amministrazione che si è tenuta scrupolosamente i dati forniti dall'arta.